laudetur jesus christus cari amici tele radio ascoltatori e pierluigi bianchi cagliesi che vi parla oggi 14 gennaio 2022 per il nostro commento del giorno abbiamo assistito nei giorni scorsi a dei tumulti impressionanti che si sono sviluppati una vera e propria guerra civile in kazakhistan che poi si è spenta nel giro di qualche giorno con un'azione molto incisiva da parte del governo kazako e la cosa poi diciamo superata questa fase mediatica così di prime informazioni che giungevano si è spenta progressivamente adesso vedete non se ne parla più siamo nel silenzio totale da parte dei media e le persone si domandano cosa stesse realmente succedendo in kazakhistan dove la situazione veramente sembrava misteriosamente incomprensibile ma guardando e osservando soprattutto le fonti di informazione più serie più accreditate che trapelano in questo momento ce n'è una molto interessante che è stata portata all'attenzione dei mezzi di informazione da parte di un commentatore geopolitico molto noto che si chiama clint ehrlich il quale proprio in questi giorni studiando e analizzando attentamente quello successo a kazakhistan ha riferito che a mosca in questo momento la situazione in kazakhistan è ritenuta un affare molto più grande di quanto lasciano intendere i media occidentali e sostiene in questo articolo interessantissimo che il caos che si è scatenato nella scorsa settimana e la continua anche violenta destabilizzazione ha aumentato significativamente il rischio di un conflitto tra la nato e la russia allora le persone si domandano che c'entra nato che c'entra la russia in quello che sembrava apparentemente un conflitto interno frutto così di un clima di restrizioni o anche di crisi economica di crisi energetica ma sembrava fin dai primi momenti sempre più chiaro che le cose in effetti non stessero esattamente in quel modo e appunto ehrlich si pone la domanda una domanda chiave cioè dice ma che cos'è che sta realmente accadendo in kazakhistan perché dopo tutto in america la situazione in kazakhistan diciamo stata passata come una piccola notizia qualcosa di nessun conto però dall'altra parte dell'altro fronte invece è quello che gli osservatori stanno notando soprattutto in russia e che mosca invece osserva con molta attenzione con molta preoccupazione quello che avviene perché la definisce addirittura come una minaccia apocalittica alla sicurezza della russia pensate una minaccia apocalittica la sicurezza della russia e queste proteste di massa queste violenze antigovernative hanno provocato in realtà decine di morti e la russia sta schierando attualmente 3.000 paracautisti dopo che le forze di sicurezza kazakh sono state invase e la città più grande al mati sembra in questo momento una zona di guerra e per capire perché la russia disposta a schierare truppe kazakhistan è fondamentale comprendere la profondità degli interessi nazionali vitali della russia all'interno nel paese e questa non è una repubblica qualsiasi di quella che era un tempo l'unione sovietica questa è una nazione che in questo momento svolge un ruolo molto importante proprio negli interessi vitali della russia in uno scacchiere geopolitico particolarmente dedicato teniamo presente che un quarto della popolazione kazakhistan è di etnia russia e i nazionalisti kazakh sono prevalentemente musulmani che non amano la minoranza ortodosso cristiana russa e la russia quindi ritiene che una guerra civile comporterebbe un rischio non banale di pulizia etnica antirussa quindi sono state fomentate in questa rivolta quelle parti della popolazione antirussa di etnia musulmana che hanno utilizzato ingenti finanziamenti giunti attraverso queste organizzazioni internazionali non governative che volevano iniziare un'azione di sovvertimento della situazione politica attuale del kazakhistan per capovolgerla a favore di interessi antirussi questo è quello che è accaduto e tenete anche presente che la russia in questi anni conduce i suoi test sui missili antibalistici presso una località di sarishaghan in kazakhistan ed è in questa località che si sta verificando proprio lo sviluppo di un nuovo sistema missilistico russo che è l'ss 550 abm che è uno dei più fondamentali sistemi per la sicurezza nazionale russa e poi ancora c'è tutto il ciclo del combustibile nucleare russo che è intimamente legato al kazakhistan perché in questo paese sono attive operazioni minerarie di uranio sostenute dalla russia e l'uranio del kazakhistan viene arricchito in una località che si chiama novourstrak in russia e poi restituito al kazakhistan per essere utilizzato nei mercati cinesi di combustibili nucleari e questo vedete nel complesso tutti questi interessi di sicurezza fanno del kazakhistan una regione che la russia è disposta a stabilizzare anche con la forza e questi 3.000 uomini questi 3.000 paracutisti e le truppe russe che sono state impegnate chiaramente non sono il massimo che la russia è disposta a schierare perché se necessario queste saranno solo la prima ondata di forze della russia nel paese ma la domanda più grande è come la situazione in kazakhistan influenzerà la situazione di stallo esistente tra la russia e la nato proprio sul fronte dell'ucraina e per questo bisogna ricordare che prima che le cose peggiorassero in kazakhistan la russia aveva ammassato truppe lungo il confine con l'ucraina musca ha emesso un ultimatum fornire garanzie di sicurezza che l'ucraina non si unirà alla nato o altro e questa era già una situazione molto pericolosa i colloqui tra nato e russia per risolvere la crisi in ucraina avrebbero dovuto iniziare nelle prossime settimane eppure proprio la loro vigilia iniziò questa rivoluzione contro il governo e kazakhistan prima che iniziassero questi colloqui è scoppiato il caos e la russia percepisce quello che è accaduto come un atto di guerra ibrida giusta o sbagliata quella percezione sta alimentando un desiderio anche di vendetta guerra ibrida che cos'è la guerra ibrida una guerra in cui avvengono cose molto strane non convenzionate in cui i provocatori armati usano la protesta come copertura per inscenare attacchi di altro genere e cioè l'utilizzo di società esterne internazionali che appunto si basano nella loro attività attraverso l'azione di organizzazioni non governative che dall'estero operano in kazakhistan servono praticamente come copertura per finanziare operazioni di ogni genere come personaggi vedete come solo se sono abituati a fare a finanziare per destabilizzare governi e situazioni politiche anche a distanze enormi e gli stati uniti soprattutto in questo momento giocano in questa situazione per finanziare ong della società civile all'estero e quando le rivoluzioni si verificano nei paesi in cui queste ong sono attive la russia a questo punto che non è proprio l'ultima ruota del carro non è sprovveduta è in grado di collegare i puntini e capire quello che sta realmente accadendo i kazakhistan di fatto kazakhistan è l'ultimo esempio di questo tipo di strategie perché nell'anno prima del tentativo di rivoluzione che in cui sono stati spesi più di un milione di dollari in questo paese per fomentare questa rivolta che poi esplosa in questi ultimi giorni tutto il denaro arrivato nel paese è passato attraverso vedete l'utilizzo di queste organizzazioni tra virgolette umanitarie non governative che con la scusa di svolgere attività di altro genere in realtà finanziano e operano sul territorio per sovvertire le istituzioni proprio il ministro degli esteri russo ha dichiarato nei giorni scorsi che descrivere la situazione in kazakhistan come un tentativo di minare la sicurezza e l'integrità dello stato con la forza è avvenuta utilizzando formazioni armate addestrate e organizzate ispirate dall'esterno dall'esterno e questa affermazione costituisce proprio il presupposto per l'intervento di una organizzazione non governativa che si è attivata proprio vedete per cercare di sopportare questa iniziativa è un'iniziativa che doveva capovolgere gli equilibri attuali del paese per in qualche modo estromettere questa collaborazione è questa alleanza tra il governo kazako e la russia la russia tra l'altro tenete presente e conduce i suoi test sui missili antibalistici presso un sito questo di sari shagan in kazakhistan dove si sta verificando lo sviluppo dicevo del sistema che abbiamo citato l'S550 abm una situazione vedete cari amici che è una situazione veramente diventa ogni giorno più delicata e ogni giorno più calda in cui gli attivisti proprio vedete delle precedenti rivoluzioni colorate che si sono sviluppate negli anni passati si stanno prendendo già pubblicamente il merito di ciò che sta accadendo ai kazakhistan c'è stato un post di un attivista belorusso un certo dmitri alco che afferma di aver contribuito a organizzare questa rivolta in kazakhistan insieme ai veterani della rivoluzione l'ucraina vedete dicevamo come la russia è in grado di collegare questi punti in cui si capisce per sempre di più quello che sta accadendo vedete è parte di un piano di un progetto che vuole sempre di più innescare una situazione di caos e accelerare un conflitto da parte della nato e delle forze occidentali contro la russia e questi venti di guerra che si avvicinano cari amici confermano ancora di più come questo progetto mondialista che vediamo increnarsi ogni giorno di più che comincia a vacillare e a franare progressivamente sia proprio il segnale chiaro che le forze occulte che governano il mondo e che vengono in qualche modo mosse da coloro che tramano le tenebre nell'inferno stanno vedete accelerando questo passaggio se fallisce il piano mondialista allora rimane la guerra una guerra che diventi diciamo l'ultimo espediente per trascinare il mondo in una catastrofe finale ma questa catastrofe che loro paventano che loro spingono in qualche modo e che pilotano in questo momento è un passaggio cari amici inevitabile forse è decisivo che conferma la fine del progetto mondialista e l'accelerazione verso una fase turbolenta e traumatica che comunque non sarà la fine di tutto come qualcuno vuole sostenere ma sarà invece l'inizio di tutto perché sarà la fine di questo progetto malefico per instaurare veramente la società cristiana la civiltà cristiana che alla fine di questo processo pur drammatico ci condurrà cari amici verso il sole radioso del trionfo del cuore immacolato di maria e a tutti voi cari amici tele radio ascoltatori l'augurio di una buona giornata laudetur jesus christus grazie a tutti 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 grazie a tutti